Ai pazienti noi trasmettiamo la nostra voglia di fare, il fatto che siamo impegnati con tutte le nostre forze per andare avanti verso una possibile cura delle malattie genetiche da cui loro sono colpiti. Io sono Luca Scorrano, ho 39 anni, sono Senior Teleton Scientist dell'Istituto Dulbecco e lavoro a Padova. Sono diversi anni ormai che noi ci occupiamo di studiare delle malattie genetiche che colpiscono una piccola parte della cellula che si chiama mitocondri, che sono come le centrali energetiche delle nostre cellule, servono a produrre l'energia che ci serve per compiere tutte le azioni della nostra vita. Abbiamo scoperto ormai 4 anni fa che una malattia genetica dell'occhio che si chiama atrofia ottica dominante, che porta a cecità i bambini in età prescolare attorno ai 6 anni, è causata proprio da una mutazione in una proteina che controlla come questi piccoli pezzi della cellula sono fatti. Da allora la nostra ricerca si è espansa e abbiamo scoperto che ci sono diverse altre malattie genetiche che condividono con questa forma genetica di cecità gli stessi meccanismi. Una si chiama malattia di Charcot-Maritoude e comporta la paralisi in età adulta. Un'altra malattia è molto comune e si chiama Corea di Huntington, è un'altra malattia genetica e proprio recentemente abbiamo scoperto che gli stessi meccanismi che causano l'atrofia ottica dominante sono alla base di alcune delle manifestazioni di questa malattia. Se una delle nostre scoperte porta a curare una malattia, significherà che nella nostra vita anziché avere curato 10.000 pazienti, forse ne cureremo 100.000 o 1 milione. In secondo luogo il distacco che uno ha dalla pratica clinica, molte volte proprio grazie a Teleton è colmato dal fatto di essere in contatto con associazioni di pazienti e con pazienti stessi che si rivolgono a te per sapere come sta progredendo la ricerca, quali possono essere le speranze per il futuro. È molto difficile comunicare ai pazienti il reale stato delle cose perché chiaramente non puoi e non vuoi trasmettere loro una falsa speranza. La ricerca è un processo molto lungo con delle regole che sono molto persone del di dentro e che quindi ritardano a volte, se vuoi, l'arrivo dalla scoperta alla pratica clinica. Il mio gruppo costa di 22 persone perché ci sono 22 persone che lavorano insieme a me. Solo lavorando insieme si possono condividere competenze che sono molto specifiche, che sono molto difficili da ottenere, per cui le persone possono venire a lavorare con me da tutto il mondo. Io ho colleghi nel mio laboratorio che lavorano con me, che vengono dal Giappone, che vengono dal Cile, che vengono dal Nepal, che vengono dall'Italia chiaramente e tutti con una competenza specifica o più competenze specifiche che condividono con i loro colleghi, che condividono con me, in modo da riuscire a mettere insieme un armamentario per aggredire la malattia genetica o le malattie genetiche che stiamo studiando, che non avrebbe uguali se ci fossi soltanto io con la mia testa e con i miei occhi e con le mie mani per fare gli esperimenti.